Quindi ogni volta che ti rendi conto che la mente è scappata, sei tolfondo, imbrogliata nei pensieri, torna indietro al respiro. Grazie. 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 Piano piano preparati ad aprire gli occhi. Andiamo in piedi e faremo cinque salute al sole. Ok? Così. Passiamo, passiamo a spi. Andiamo le mani davanti a cuore. Respiro, allungo le braccia. Respiro, scendo Uttanasana. Respiro, testa sale. Respiro, chaturanga. Inspiro, spira. Respiro, cara. Inspiro, avanti, testa sale. Respiro, testa scende. Inspiro, vengo su. Porto su le braccia. Respiro, scendo. Uttanasana inspiro testo sale espiro chaturanda inspiro cobra Katerina metti giù la ginocchia espiro cane inspiro avanti testo su espiro testo giù inspiro vengo il supporto sulla braccia espiro scendo di nuovo Uttanasana testo verso le ginocchia inspiro testo sale espiro chaturanga braccia forti inspiro cobra espiro cane inspiro torno avanti testo su espiro testo giù inspiro vengo su porto sulle braccia espiro scendo di nuovo Uttanasana inspiro testo sale espiro chaturanga inspiro cobra espiro cane inspiro avanti testo su espiro testo giù inspiro vengo su porto su la braccia ultima volta andiamo espiro scendo Uttanasana inspiro testo su espiro chaturanga inspiro cobra inspiro cobra espiro cane inspiro avanti testo sale respiro testo scendo inspiro vengo su respiro samastit ok giro verso di voi così mi vedete meglio cominciamo con questi esercizi di kundalini yoga quando facciamo questi esercizi la respirazione è fondamentale quindi inspiro tramite il naso ed espirerò tramite la bocca fortemente un po' forzata l'aspirazione così ok quindi cercate di espirare fortemente tramite la bocca ok va bene quindi apro le gambe ok e tengo le gambe un po' rilassate ok e sciolgo un po' le spalle ok faremo 10-15 ripetizioni ogni esercizio ok ok quindi gambe sono così e semplicemente lavorerò sulle spalle prima gli esercizi non devono essere veloci ok quindi faccio questo panni vanno fuori inspiro ed espiro inspiro espiro ok facciamo 10-15 ripetizioni 9-15 ripetizioni adesso apro le braccia così inspirando apro il petto espiro mi abbraccio ok inspiro di nuovo apro espiro abbraccio cambio cambio braccio cambio presa vado ok ok inferno sciogli la spalle sciogli la spalle un po' il colo. Ancora lavoriamo sulle spalle. Adesso portalo, infatti tolgo perché qui l'anghi già sta bruciando. Quindi con la prossima cosa porti sulle braccia e ti metti sulla punta delle dite dei piedi ed espirando riporti tutto qua. Ok? Facciamo dieci volte. Concentrati sulle spalle. Sette. Nove. Ok, undici. Va bene. Ci fermiamo. Ok, andiamo verso la schiena adesso. Ok? Andiamo verso la schiena, ragazza. Apriamo le gambe, così. Intrecciamo le dita. Puntano giù l'indice. Ok? Facciamo l'udra. Ok? Inspirando, allungherò verso l'alto le braccia. Cerco di allungare tutto qua. Ok? Inspiro. Espirando. Espirando, piegando la gamba, spingendo dietro il cocci. Scendo e porto dietro la mani e guardo, guardo pure la testa delle schiena, così che lavoro al fondo. Ok? Ok? Non devi andare velocemente. Andiamo. Inspiro. Ok, Caterina. Piano piano qua. Ok? Non scendere troppo. Andate avanti. Dieci volte. Grande aspirazione. Forti. Piano piano, Caterina. Ok, brava. Dieci volte. Grande aspirazione. Metti fuori tutto quello che non ti serve. Sono molto buona, anche un po' bella. Ok. Mi sa che abbiamo fatto dieci. Ok. Torniamo su. Ok, rimaniamo così, con le mani. Ok? Adesso facciamo giri. Ok? Inspiro. Adesso, espirando normalmente, scendo. Inspiro, torno su a sinistra. Faccio cinque giri. Espiro giù. Espira normalmente adesso, non così forte come prima. E su. Inspiro, su. Quattro. Quattro. Cinque. Perlo qua un attimo. E vado poi a sinistra. Inspiro. Espiro giù a sinistra. Inspiro, su a destra. Cinque volte. Lenta, lenta, lenta ragazzi. Non forte. Radicate questi piedi. Mantieni l'equilibrio. Tre. Senti la schiena. Se ti fa male, devi fermarti. Quattro. E cinque. Ok. Ok. E mi fermo qua. Ok. Sciolgo un po' le spalle. Sciolgo un po' le braccia. Sciolgo un po' la schiena. Ok. Andiamo lateralmente. Ok? Porto braccio sinistro su. Inspiro. Ed espirando fortemente andrò a sinistra. Ok? Quindi così. Ok. Fai dieci. Inspiro a destra. Espiro a sinistra. Cinque. Otto. E dieci. E mi fermo. Questo va molto bene anche per gli ormoni. Adesso facciamo stessa cosa, però cominciamo braccio destro, scendo a sinistra, inspirando, espirando l'altra parte. Ok? Andiamo. Ok. Puoi anche girare un po' la testa, se non ti dà fastidio. Guardare sempre sotto l'ascella. Così anche il collo un po' lavora. Se invece ti dà fastidio, guardi davanti. Non muovere tanto la testa. Tieni la ferma, così. Perché ti dà fastidio al collo. Ok. Tre ancora. Terzo conto. Ultimo. Ok. Bene. Sciogliamo. Ed l'ultimo esercizio per la schiena. Facciamo semplicemente, prendiamo i vomiti. Ok? Inspirando vado a destra, espirando a sinistra. Ok? Devi un po' girare le ginocchia e continuano a guardare avanti. Quindi vado. Quindi spingi dietro questo vomito. Ok. Ancora due. Ok. Mi fermo. Se vuoi puoi cambiare presa, portare l'altro braccio davanti. Adesso inspiro a sinistra, espiro a destra. Faccio dieci volte. Sette. Sette. E dieci. Ok. Adesso arriviamo ai fianchi. Metti la mano sui fianchi. Semplice, metta forti. Destra, sinistra. I fianchi. Molto semplice. Sempre respirando. Inspiro, espiro. Ok? Vedi, se questo va bene per le tue aniche, oppure senti qualche dolore, devi rallentare. Ok, mi fermo un attimo. E comincio a sinistra, inspiro a sinistra, espiro a destra. In, ex. Ok, ci fermiamo. Ok, apriamo le gambe. Adesso lavoriamo sulle gambe, sulle anche. Ok, appena porta fuori i piedi, ancora le anche, anche le cosce. Ok? E scendi un po' in sumo. Ok? Metti la mano sopra. Se hai problemi delle ginocchia, fai attenzione. Anche io ce l'ho, quindi faccio attenzione. Ok? Appoggio le mani sopra le ginocchia. Inspiro ed espiro, mi spingo a destra. Inspiro a sinistra. Quindi, leggermente, lentamente. Non devi fare non so che cosa. Ok? Non devi scendere per terra. Ok? Concentrati sulle gambe, sulle anche, sulle ginocchia. Ok, mi fermo. Poi comincio. Inspiro a sinistra, espiro a destra. Inspiro a sinistra, espiro a destra. Spiro a sinistra, espiro a sinistra. Ok. Ok. Bene. Ci fermiamo. Ultimo esercizio, ragazzi, per la gamba, che sarà un po' difficile. Ok? Allora, come faccio adesso? Ah sì, dobbiamo aprire così, ragazzi. Ok? Gamba sinistra avanti, gamba destra dietro. Ok? Radichi bene ai piedi. Questo anche equilibrio. Ok? Le braccia aiutano. Ok? Inspirando porterò avanti la gamba destra ed espirando la porterò dietro. Così. In and ex. Ok? Torno, lo farò dieci volte. Ok? Quindi. Ti fermi un attimo per stabilizzarti. Vuoi anche mettere le mani sui fianchi. Ok? Vai avanti. Voglio vedere come va. Attenzione al ginocchio. Dieci volte. Ok? Bene. Andiamo all'altro lato dopo dieci. Cambio. Gamba destra davanti, gamba sinistra. Dietro. Dari i portieri. Questo è un po' piegata, così è più facile. Inspiro. Allora, puoi cercare di farlo un po' più lentamente. Tenere questa gamba più tesa possibile. Ok? Quindi lavora un pochino anche gli addominali. Piano piano. Spira. Fai dieci. Ok. Bravissima. Ok. Quando hai fatto dieci ti fermi. Ok? Un po'. Sciacchiamo le gambe. Sciacchiamo le tensioni. Questi esercizi sono molto buoni. Se avete problemi, gambe pesanti, che ne so, ritenete un po' di acqua liquidi, no? di tensione idrica. Sono molti. Questi esercizi, kick, sono bellissimi. Potete sempre fare queste cose per le gambe. Se invece vuoi lavorare più dell'addominale, lo fai più lentamente. Più lentamente. Tieni l'addominale fuori. Facciamo un bel, quindi essere in frescanza. Ok? Dai, andiamo. Inspiro. Respiro. Scendo. Inspiro. Testo sale. Respiro. Cipuranga. Inspiro. Cobra. Respiro. Cane. Mi fermo in cane. Fermati qua. Senti il corpo. Senti il cuore che probabilmente batte ancora un po'. Allunga bene la gamba, allunga bene le braccia. Apri le scapole. Adesso facciamo una bella cosa per lavorare gli addominali. Ok? E lavoriamo con tutto il corpo. Quindi focalizzati sugli addominali. Inspirando. Porto su la gamba destra. Espiro. Porto in avanti. Ok? Due piedi puntano in avanti. Quindi lentamente. Lentamente. Inspirando. Vieni su. Ok. Tieni l'addome dentro. Porta la pancia dentro adesso. Respira col torace. Attiva. Attiva l'addominali con la respirazione solo. Ok? Quindi. Quando gli spiriti tieni la pancia dentro. Quando gli spiriti tieni la pancia dentro. Solleva tutto. Ok? Quindi stai lavorando sugli addominali esclusivamente. O non esclusivamente. Però. Aiutando col respiro. Attiva gli addominali. Ok. Ultimo inspiro qua. Espirando. Porto giù le braccia qua dietro. Così che sono ancora paralleli. Guardo davanti. Inspiro. Ed espirando. Mi porto in. Equilibrio. Anche qua. Tieni la pancia dentro. L'ombelico. Mentre espiri. Porta dentro l'ombelico. Mentre espiri. Tieni dentro l'ombelico. Mentre espiri. Questo è più difficile che sembra. Fai cinque respiri così. Con gli addominali attivati. Ok. Inspirando. Vieni su. Porta la gamba con te. Porta giù. Su. Le due braccia. E la gamba sinistra. Senza andare troppo dietro. Cerca di tenerti dritto. Caterina. Tu. Porti solo il ginocchio. Tu ti fermi qua. Anche l'altro studente adesso. Se avete problemi. Fai solo il ginocchio. Così. Ok. Espiri. Espiri. Col torace. La pancia sta dentro. Ombelico dentro. Bravissima. Questo è molto difficile. Spero che si state già sudando. Come me. Ultimo. Inspiro. Ed espirando. Rilascio tutto. Faccio un bel vignasso. Chaturanga. Inspiro. Inspiro. Cobra. Respiro. Canna. Allungo bene. Ok. Inspirando sale la gamba sinistra. Respiro la porta in avanti. Due piedi puntano in avanti. In linea con le loro anche rispettive. Ed inspirando vengono su. Porto su le due braccia. Una volta che sei arrivata qua. Comincia il lavoro. Focalizza la venta. La pancia. Dove c'è l'ombelico. Porta dentro. Succhia dentro. Mentre inspiri. E tienilo dentro mentre espiri. tra le caterina. Tra le caterina. Non puoi risucchiare quella pancia. Ok. Tieni. Porta su le braccia. Ecco. Tieni. Tieni. Tieni le braccia dritte dritte. Pancia dentro. Ultimo. Inspiro. Ed espirando. Porta giù le due braccia. E dietro. Dietro. Apro la spara. Cerca di tenere le braccia parallele e dritte. Quello è importante. Inspira di nuovo. Pancia dentro. Ed espirando. Porta il tuo peso davanti sopra la gamba sinistra. e scendi. Fai un grande T col tuo corpo. Una volta che stai qua. Immagina che qualcuno sta facendo la fotografia. Non vuoi che questa pancia può chiudere. Quindi porta dentro questa pancia. Respira. Bene. Sto guardando. Ok. Non vedo Caterina. Dove sta? Ah sì. Ok. Ok. Inspirando. Torno su. Porto su le braccia. Avanti la gamba. Tu decidi cosa vuoi fare. Puoi portare solo il ginocchio. Fermarti qua. Oppure ti senti abbastanza forte. Allunghi questa gamba destra. In ogni caso tieni la pancia dentro, dentro, dentro. Respira. So che è difficile. Bravissima. Va molto bene. Cioi la spalla. Sabrina. Ok. Ed espira. Lascio andare. Vado giù. Ciaturanga. Non dimenticare. Se fai la ciaturanga classica. Quello è molto forte per gli addominali. E poi inspirarlo. Cobra. Respira, cane. Ok. Appoggio le ginocchia. Porto le mani più davanti. Spingo dietro il coccige. Faccio la postura del cucciolo così che spingi dietro il coccige e anche sopra le ginocchia. e allunga bene le braccia e la schiena. Fai cinque respiri qua. Puoi rilassare la pancia. Espirando. Scegliamo il bambino classico che per i naturali la coscia. E scendo il bambino classico qua. Per terra. Respiro. Ok. Inspirando alzo la testa. Se vuoi fare un altro inghiasso, puoi fare un altro inghiasso e scendere il ciaturanga di nuovo. Fare cobra, cane. Aspirando appoggiamo di nuovo. E vi dico già adesso che siamo arrivati all'esercizio più difficile di tutta la serata. Quindi potete fare varianti. Vi farò vedere varianti. Ok. Quindi quello che facciamo è che appoggiamo l'avambraccio così che sta parallelo al cappettino qua. Ok. E poi cercherò di fare, portare fuori due piedi e cercherò di fare un bastone così. Allora se questo è già difficile tenere il bacino in aria, devi appoggiare il bacino. Ok. Appoggi il bacino e stai qua. Quindi sto facendo vedere la variante più facile. Appoggiando il mio bacino. Sono sul lato destro. Gomito sotto la spalla sinistra. Inspirando allungo il braccio sinistro. Espirando porto la mano sulla nuca. Gomito punta su e petto aperto. Qui assicuri che questa spalla non va verso l'orecchio. Ok. Apri bene il petto. Apri il torace. Inspira profondamente. Ed espirando lentamente porta questo gomito verso la terra. Ok Caterina tu stai facendo questo. Ok. Inspiro torno su. Ed espiro torno giù. Allora quei studenti che vogliono lavorare di più staccano qua il bacino. E fanno così. In. Ex. Puoi anche portare il piede sopra l'altro. Ancora più difficile. And ex. E fai cinque volte. Attenzione alla spalla qua. Che è forte per la spalla. Quindi se hai problemi della spalla magari devi ripensare questo esercizio. Lavora lentamente. Ok. Metti giù il bacino Marta. Tu stai facendo questo che sei studente nuovo. così. Respiro giù. Ed inspiro su. Ok. Fammi. Fammi tre. Ok. Brava. Ok. Puoi fare più di cinque se ce la fai. La cosa più importante è la respirazione. Cerca di tenere la pancia dentro. Ok. E ci fermiamo. Ci fermiamo. Tizzi. Che è successo? Ok. Allora sì. Questo è difficile. Io so che questo è difficile. Adesso per fare la contropostura. Da questa posizione. Mi metto così. Tipo Mermaid. Tipo Serenella. Così che è sexy. No? Spiaggia. Porta fuori il braccio destro. La mano destra. Ma le dita sono aperte. Così che il braccio destro è allungato. È dritto. Porta il braccio sinistro giù qua e panno su. Sopra. Ok. Qui assicura che questa spalla non fa questo. Ok. Ma è ben aperto. Lo facciamo adesso. Sempre dinamico. Guarda. Adesso allungo. Inspiro. Spingo sul bacino. Su. Scendo. Puoi anche aprire le ginocchia se vuoi. No? Così. Ad aspirando. Torni su. Allora è importante di lavorare lentamente qua. Ok? Tieni la pancia dentro. Inspiro. Apro le ginocchia. Se qualcuno per caso vuole lavorare di più. Puoi allungare la gamba sinistra. Ad aspirando. Torni. Ok? Allora fai cinque volte. In. Cerca di scendere con questo. Espiro. Torna via. Fai cinque volte. Bravissime. Respira. Scusa Gabriella. Me lo potresti far rivedere. Aspetta. Cominciamo. Con una bella. Chaturanga. Cobra. Cane. Vignassa. Vi ho detto che questa è il più difficile. Questi due. Della. Della. Della settimana. Da giorno. No? Quindi. Scendo. Chaturanga. Inspiro. Cobra. Espiro. Chiara. Ok. Adesso vado dall'altro lato. Appoggio l'avambraccio sinistro. Un giro così che mi vedete da davanti. Appoggio l'avambraccio sinistro e puoi anche appoggiare il bacino allungare le gambe. Nuovi studenti. Ok. Porta sul braccio destro e porta la mano sopra la nuca. Arrivi a questo punto lì. Inspira. Apri questo. Questo petto. Ed espirando. Ruota giù. Porta giù il gomito destro alla terra. Ed inspirando torni su. Studenti più vecchi potete staccare il bacino. Apriti ed espirando e scendo verso la terra. Puoi fare cinque, puoi fare dieci. E' importante di lavorare lentamente. Non datti la spinta. Non barare. Usa i muscoli. Spalle. Cioè spalla e... Questi addominali laterali. Bravissimo. Va molto bene. Ok. Quando sei stanca ti fermi. Minimo cinque. E poi ti metti in questa posizione più... Più comoda. Ovviamente. Perché adesso sono... Sono seduta qua. Ok. Porto il braccio destro qua sopra. Così che il palmo guarda su. Già ho ruotato esternamente la spalla qua. Poi inspiro. Alzo questo bacino. Porto il braccio sopra. Alzo anche il ginocchio destro. Porto su, 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 su e giù, giù, giù la mano. Espirando. Lascio andare. Torno esattamente dove ero prima. Come un armonico. Inspiro. Puoi anche allungare questa capa. Espiro, torno giù. Ok. Vai avanti così. Allungati. Apriti. Ahà. Bravo. Ok. Puoi fare cinque. Ok. E poi scioglio tutto. Se sei stanca, puoi andare al bambino. Se non sei stanca, puoi fare l'ignassa. E dopo il vignassa ci mettiamo sedute per terra. Quindi da qua mi siedo. E semplicemente faccio Paschimotasana. Respiro. Ok. Lo togliamo su, adesso non voglio fare cose molto forti con voi perché abbiamo lavorato a presenza, semplicemente un po' lavoriamo un po' sulla schiena, facciamo questa cosa molto molto semplice, quando sono sentita così mi ruoto fuori a destra, cerca di non staccare niente, tenere i piedi in linea, ok? Tenere i piedi in linea, ruotati fuori finché puoi a destra e qui naturalmente il piede a sinistra andrebbe più avanti perché sto ruotando, cerca di non fare quello, cerca di tenere i piedi insieme così che le arche rimangono nella stessa linea e ruoti soltanto con la schiena. Testa guarda giù verso le mani, una rotazione molto semplice, respira qua. Ok, torna in avanti, inspirando. Respirando, ruota sinistra, adesso assicura che il piede destro non va avanti, il piede sinistro, anche rimangono in linea. Respira. Respira. Ok, torna in avanti, porta su le gambe qua, così, porta la pancia fuori tra le cosce, vieni avanti, braccia sono all'interno delle cosce, lavoriamo sulla schiena, ok? Intreccio le dita, ragazze, e le porto, le mani, porto sulla nuca qua. E sciolgo le spalle, lascio i vomiti scendere verso la terra e gentilmente spingo la testa giù verso la terra. rilassa bene la parte lombare, sacro lombare della schiena qua, gentilmente spingi la testa giù, mento va verso lo sterno, questo aiuta a allungare bene bene la corda della schiena, è come una corda, no? Quindi immagina che stai tirando questa corda. Ok, ecco l'abbai. Sciogliamo, sciogliamo la postura e rotoliamo giù, rotoliamo giù lentamente, vertebra per vertebra. Quindi questo devi fare così che prendi le gambe qua sotto, fai un bobbo e poi cominci a rotolare giù. Prima corcice, poi il sacro, col vertebra per vertebra, ad un certo punto si staccano i piedi. scendo tranquillamente per terra. Ok, sento la schiena. Lascia scendere tutto, metti la mano sopra le ginocchia, rilassati per un attimino, rilassa le spalle, specialmente connettiti adesso alle spalle, scapole. Senti che lì è tutto piatto, la parte posteriore del corpo, la schiena. piatto per terra. Certo peso sopra, peso delle gambe. Puoi portare sulle gambe, divaricare le cosce, fare il bambino felice. rotolare, destra e sinistra e gentilmente. Aprire le anche. Poi quando sei pronta, puoi rimanere qua, se non vuoi andare oltre, oppure fare le posture finali, questo qua riparita carani, oppure candela, tra l'altro pesce. Puoi tenere sulle gambe, un po' semplicemente così, per aiutare la circolazione. puoi puntare e flettere i piedi. Puoi muovere le gambe, se vuoi fare la bicicletta. puoi scendere nella postura del shavasana, la postura del morto. Quindi qui vi lascio lavorare col vostro ritmo. chiedi gli occhi e respira tranquillamente, rilassa. completamente corpo. lascia andare. respira con la pancia adesso. fisica attivi il nervo vago. sono in 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 Senti come sei pesante. Il corpo è proprio quale adesso questo momento di relax dopo il lavoro che ha fatto. Sciogli ogni parte del corpo dove senti qualsiasi tensione. Grazie. 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 Piano piano, rotola sul lato, gentilmente abbiamo fatto 5 minuti, bastano, vabbè 10-15 sarebbero meglio però almeno 10. Andiamo su, un attimo di gratitudine, ringrazio a voi e poi anche ringrazio a mio corpo che sta in salute e che ha fatto questa pratica, ringrazio tutti. Grazie.